carissimi amici un buongiorno con il sorriso perché chi perde il sorriso perde la speranza in questi momenti bui guai a voi se non riviate e fate ridere gli altri e io mi sono fatto un bel regalo questa mattina ma lo voglio condividere con tutti voi come chiamando il nostro simpaticissime amorevole carlo buongiorno 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 stefane un abbraccio grande 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 come stai bene 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 alle prese con il tuo caffettino e si aspettavo te perché mi avevi dato un orario se lo prendo e non lo voglio prendere appena lei mi quando lei mi chiama così ne effettiamo che chiacchieriamo mi gusto il caffè me 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 lo sorseggio un pochino ma dolimi una curiosità come mai si ancora ai tempi della pietra nel senso con la caffettiera e non dando una macchinetta che guardate che tazzina meravigliosa le ho parlato perché io non prendo mai non prendevo prima di questa quarantena non prendevo mai caffè a casa mai magari avevo preso l'abitudine di non fare più colazione in giro tipo cornetti nei bar con una con un nutrizionista e mi era mi era abituato quindi cambiavo la mattina una fettina di eh cambio fette biscottate con la marmellata una volta lo yogurt una volta il latte una volta quello e quello allora dove il caffè era mia abitudine andarmene a sé al bar e sedermi leggermi il giornale prendermi il caffè e e quindi avevo una una aveva una caffettiera messa in una da parte non mai usata ora la pannescere e casa e e devo fare il bravo come tutti ho capito come trascorrono le tue giornate carlo allora trascorrono non mi annoio non mi metti spiego perché 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 mettiamo la giornata di oggi a di mattina appuntamento intervista con stefania alle due insieme live cucino in diretta con l'antenna sicilia e quindi poi c'è un sacco di un po di interventi finale 17 alle 17 due minuti instagram con oggi con rosanna sapia alle 19 ancora su instagram con jessica e non fa tempo c'è più qualche diretta se mi canse se proprio ciò voglia io perciò bene o male tu il tuo lavoro lo stai facendo ah tu il tuo lavoro lo stai facendo lo so per tutto lo spirito santo no il tuo lavoro quello proprio originale quello missionare quale quello fa ridere la gente fa di compagnia sì 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 quello sì quello sì 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 cerco quando ce la faccio sono giorni che non c'è non mi viene anche a me con la cosiddetta saudace carlo mi sarei aspettato mi sarei aspettato una delle camicie delle tue invece che sono la famiglia simpson a simpson sì sì ma non è che la mattina abbiamo un buco che camise no vero no la casa che ha furito che camise aspetta allora ti faccio un regalo aspetta che ti faccio un regalo aspetta ti aspetto non ho altri impegni dimmi nel frattempo dimmi 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 che sei meraviglioso con questi colori wow wow in onora alla nostra terra wow ma senti mi sta venendo subito in mente così la canzone che tu hai scritto che usavamo anche per sigla per molti appuntamenti una strofetta subito 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 così sicilia di fimmene bedde casana a ballare a quale vestute de niuro su sexe a colore a pelle di vita imbrignata di mennole e giure sicilia suo capolavoro lo nostro signore e poi si siciliano lontano suo primo pensere si casse sto tempo con l'ugna e tornare al rete sicilia tu si impara riso del raro splendore grazie stefania io posto più bello domono per fare grazie carlo e ho posto più bello domono per fare commetto l'amore e che c'è detto chi può fare carletto mio questa canzone mi ha riportato un attimo nel flash perché mi sono sentita chiamata ti ricordi quella volta che stavamo presentando insieme io ti aiutavo naturalmente eri tu che conducevi e tu stavi raccontando una barzelletta che io man mano mi guardavo attorno e dicevo ma sta parlando io sto parlando io che tu facevi erano becco i capinti russi e io disse ma forse sta parlando ricci ricci non dai aere a niur ma carlo ma chi sta dicendo ti ricordi no no figure se mi ricordo e allora adesso quando ti hai parlato i film nei studi di niur dai aere a mia ma sta suonando perché la gente si immagina ancora che siamo ancora vestiti di niur e adesso c'è la madre sono delle cose stupide, inutili carlo qual è la prima cosa che farai usciti dalla quarantena? me ne vado al mare me ne vado al mare tempo permettendo scommetto anche se piove c'è me ne vado a malo tempo e me ne faccio il bagno e quindi aspettiamo questo video live ed è il primo giorno di libertà carlo che ne vado al mare il primo giorno che ci danno la libertà di uscire la prima cosa che faccio è me ne vado al mare come ieri magari che c'è malo tempo e mi faccio il bagno ieri facevo una piccola osservazione affacciata dalla finestra perché questo possiamo fare e dicevo sembra che la natura anche il cielo stesso stia respirando meglio cioè questa quarantena alla natura sta facendo bene e beh come ogni cosa ci sono i pro e i contro il bene e il male il male dovrebbe essere stare a casa ma tanto male non è perché si può stare benissimo a casa perché nella vita ci si abitua a tutto io vivo in una casa dove mi passa il treno e lo sento tutti i giorni quando vengono le persone mi dicono ma come fai a stare qua e invece tu io forse il primo giorno ho avuto ma poi talmente ti abitui che non lo senti più non ci fai ti manca ma sta passando ora no ora no se passa che lo sento mi risposto e te lo faccio vedere va bene ma riesce anche a capitare se dentro il treno ci sono persone sì 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 ce ne sono ancora oggi pochissime 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 vabbè questo è un buon segnale vuol dire che noi siciliani siamo capendo ma sai come in tutte le cose come tu vedi c'è gente che in questo momento sta esplodendo raccontando incantando le persone ci sono momenti in un momento di quarantena in cui ci sono ci sono personaggi che diventano personaggi c'è gente che di queste di queste dirette ne approfitta in un modo buono e sbagliato è la vita che è così guarda io mi sta venendo anche da piangere Carlo visto sto guardando il timer e il tempo è quasi finito veramente ma io lo so che ti dico ma vaffanculo Instagram continuiamo la nostra parlata salutiamo gli amici di Instagram e poi lo tagli ciao ragazzi di Instagram è un piacere Carlo Caneba su Instagram cliccate mi piace follower e ora continuiamo ok ora possiamo continuare per gli altri amici dei social noi abbiamo finito con Instagram però per gli altri amici dei social facciamo altri 5-6 minuti sì 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 così ci divertiamo allora Carlo allora non vorrei ora discriminare gli amici di Instagram ma per quelli di Facebook e degli altri social una bella barzelletta la facciamo vuoi una barzelletta vabbè possiamo fare una cosa carina uno sketch no uno sketch una barzelletta facciamo una barzelletta proprio si addice a questi momenti no questi momenti di stare in casa e c'è e c'è questa questa signora che ne approfitta no del marito mi marito è a casa quando non c'era e per chi non c'era e non voleva fare mai niente o trovava sempre i scascioni io ne combinavo tutti i piacini ma chiesto soffrono ora che siamo a casa scusa siamo noi due soli ti devi dare una mossa e chiesto non si dava una mossa completamente a un certo punto una sera chi sta desperata come una pazza sente ah mi dà se vada che sei buonza tu mi fai sentire film ah ti vuoi sentire film che aveva uno stereo accanto ci mette una musica ci mette una musica you sexy teen una cosa molto sexy si comincia a levare la giacca si annaga tutto si comincia a levare la cammisa si comincia a levare la cammisa si comincia a levare il suo pantalone si leva i quasetti anzi prima scappe poi i quasetti poi i pantaloni si leva i mutanni piglia a sua manchierata lì e ci face tu vuoi sentire film ah te a cominciare le robe maschilista ah 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 ma più che maschilista pensa che anche se non mangiava non arrattava manca broro qua anche da vedere il soggetto dall'altra parte non so se quella donna era appetitosa come in questo momento senza estetiste senza parrucchieri senza onicotecniche senti 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 cara io essendo che vivo da sola e sono singolo e avevo 25 yonna in questo momento magari che non avevo lunga fatti per me vabbè li potrebbe magari che dirà tagadina l'ha detto in siciliano non c'è più niente da fare è stato bello sognare quei lunghi giorni felici vissuti con te Stefania grazie di tutto un'altra curiosità adesso sei vestito perché avevi questo appuntamento ma di norma a casa come stai? no no ero così normale no 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 guarda lo togli il pigiama la mattina manda l'ora di tuta manda l'ora di tuta ora penso che cucinare per insieme live vediamo che che preparo e così mi passo il tempo ma mangio direttamente alle due quando inizio il programma non è che mi metto a cucinare e poi lo butto cioè te lo mangi dopo o mentre? mentre mentre durante durante tutto in diretta tutto in diretta ok e allora ti seguirò anch'io con qualche bellissima ricetta da fare ok? salutami ti voglio bene Carlo un abbraccio forte forte allora come finisce questa quarantena con calma andiamo a mangiarci una pizza anche con i bambini ci portiamo i bambini e ci dobbiamo mangiare una pizza ma sei sicuro anche con i bambini anche con i bambini tanto ci ha combattuto le domenica ci ha combattuto io come interessa con piacere Carlo con piacere veramente ce l'avevamo ripromessi già una volta e poi sai la vita è questa gli impegni miei gli impegni tuoi non si se becca mai ma sappi che ho sentito ieri un'altra amica ambra lombardo e mi diceva quando scendo in Sicilia Stefi andiamo a fare una rimpatriata perché andiamo tutte e tre senza problemi anche che ho una ho una bella amicizia con ambra ti voglio bene Carlo buona vita sempre buona vita a tutti i tuoi ascoltatori a tutti quelli che guardano questo questo video buona fortuna sempre